Istituto Assistenza Anziani, al servizio dei tuoi cari. L'Istituto Assistenza Anziani di Verona si pone lo scopo di sostenere, promuovere e realizzare iniziative sociali e di assistenza a favore di anziani o di persone in condizioni di bisogno per difetti fisici o malattie croniche, sia abbienti che meno abbienti. Attualmente l'Istituto ha una capacità ricettiva per 792 persone, di cui 577 posti letto per ospiti non autosufficienti e 215 per autosufficienti. La retta è omnicomprensiva di tutti i servizi. Tra gli altri assicuriamo ai nostri ospiti le seguenti prestazioni. Barbiere, parrucchiera, podologo, medico, dentista, ma anche fisiatra, fisioterapista, animazione e servizio religioso. L'assistenza è assicurata da 320 operatori, 50 infermieri professionali, 9 terapisti della riabilitazione e 4 educatori professionali con rapporti ampiamente superiori a quelli previsti dagli standard regionali. Tutto il nostro personale è in possesso di titoli professionali autorevoli. Ogni anziano che entra in struttura porta con sé le proprie esperienze di vita, i valori, le abitudini, i desideri, tutti i bisogni legati alla persona, fisici, psichici, sociali. È perciò fondamentale garantire all'anziano il mantenimento della propria individualità attraverso un'assistenza erogata nel rispetto della privacy e della dignità umana.